Tagli alla sanità pubblica e convenzionata, ne parliamo con Federico Regazzo, amministratore delegato Data Medica Padova. Qual è la situazione? La situazione è estremamente critica, perché dopo i tagli che sono stati effettuati nel 2013 con effetto retroattivo per il 2014, noi abbiamo una situazione che è quasi certa. Dico quasi perché noi abbiamo un budget che è quello ridotto che ci hanno assegnato all'inizio dell'anno e poi c'è una promessa di extra budget, cosiddetto extra budget, di incremento per il 2014 che ancora non abbiamo visto. Solo per alcune branche, cioè solo per la radiologia degnostica, cosa che però non è avvenuta. Stanno facendo in questi giorni una ricognizione sulle strutture che hanno diritto o meno a questi budget, però ancora noi non sappiamo niente. È chiaro che non sapendo nulla all'inizio di ottobre di un eventuale budget aggiuntivo sulla radiologia, è evidente che qualora anche questo ci fosse non sarebbe possibile erogarlo. Quindi sembra quasi una presa in giro, se sarà per il 2014. Le faccio una provocazione, comunque entrando nei vostri studi c'è sempre il pienone, diciamo così. Questo non è un ristorante, me ne rendo ben conto. Quindi effettivamente è così o si piange un po' il morto? No, no, purtroppo la situazione è estremamente grave perché il problema del cosiddetto pienone è che intanto il personale che abbiamo è stato ridotto e quindi la gente è costretta ad aspettare, i pazienti sono costretti ad aspettare un attimino di più per l'esecuzione dell'accettazione e questo dà quell'effetto pienone. In secondo luogo noi cerchiamo per quanto possibile di non mandare mai via nessun paziente e di eseguire comunque le prestazioni che comunque in convenzione si sono drasticamente ridotte. La gente in questo momento è costretta a pagare prestazioni private.